Per omicidio e soppressione di cadavere, ma anche per detenzione illegale di armi da fuoco, i carabinieri di Marsala hanno arrestato i fratelli Vito e Giuseppe Signorello, rispettivamente di 46 e 39 anni, entrambi incensurati. Sarebbero loro gli autori dell'uccisione di Christian Maftei, 38 anni, avvenuta nelle campagne di Contrada Biancolidda, circa 800 metri dall'azienda agricola dei due arrestati. Maftei è uno dei sei romeni che la notte tra il 15 e il 16 maggio furono presi a fucilate a colpi di pistola mentre stavano tentando di rubare alcune piante di cannabis dalle serre dei fratelli Signorello. A sparare sarebbe stato Giuseppe che aveva deciso di vigilare armato sulla piantagione dopo avere subito alcuni furti. Avendo visto a terra il corpo senza vita del romeno, presso dal panico, telefonò al fratello. Entrabbi avrebbero quindi chiesto ai loro braccianti altri due romeni, Ionut Stoica di 26 anni e Georg Florian di 27, anche loro arrestati per coltivazione di marijuana, di disfarsi del cadavere. Gli altri cinque componenti della banda che aveva tentato il furto invece riuscirono a fuggire. Uno di loro, un 22enne ferito ad una gamba, fu accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Marsala. Gli altri quattro la mattina successiva si presentarono alla caserma dei carabinieri per raccontare l'accaduto. I carabinieri scoprirono così che all'interno delle serre dei signorello venivano coltivate circa 9.000 pianteri cannabis. In un magazzino i militari hanno trovato anche 33 chili di marijuana già essiccata. Gli investigatori sottolineano che la vicenda non ha punti di collegamento con la sparatoria avvenuta la sera del 31 maggio, sempre nelle campagne di Marsala, davanti ad altre serre di marijuana, quando il maresciallo capo dei carabinieri Silvio Mirarchi fu ferito a morta nel corso di un'operazione antidroga. Le indagini su questo episodio stanno proseguendo.